raccontiamo il territorio insieme a te su youtube ogni giorno ogni settimana insieme raccontiamo il territorio le tue esperienze i tuoi luoghi simpatici i luoghi più belli dell'ambiente in cui vivi o più curiosi raccontiamo il territorio con franco e pablo stiamo attenti basta una piccola disattenzione per creare danni all'ambiente e distruggere ettari ed ettari di verde nel nostro cilento questa volta è andata bene le foto ci sono state fornite da francesco antonio cavalieri che scrive il lavoro di squadra fa funzionare il sogno ma una visione diventa un incubo se non si agisce tempestivamente grazie ai vigili del fuoco di policastro e oggi con la loro veloce ed efficiente rapidità sono riusciti a domare un incendio che poteva compromettere una vasta area di macchia mediterranea nel comune di rocca gloriosa mi raccomando stiamo attenti grazie a tutti 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 grazie a tutti